Buongiorno a tutti i miei nomi, ti si vanti Buongiorno a tutti i miei nomi, ti si vanti Benvenuti ai secondi episodi di Minecraft Story Mod Parte 2 del ancora primo episodio Perché come ben sapete è diviso in 5 episodi che non vengono rilasciati tutti e 5 in un colpo Adesso c'è l'1, poi quando verrà rilasciato il 2 inizieremo col 2 Io lo divido in parti semplicemente perché nessuno guarderebbe 20 minuti in un colpo 15 è più tollerabile Quindi iniziamo a giocare e buona fortuna a noi Allora, reuna del juego Ciao Xa Ok, stanno parlando che adesso abbiamo il necessario Perché? Ok Attenzione, Lucas e gli Ocelot I nostri rivali ragazzi E hanno le giacche tutte uguali Oddio Perché? Proprio il capo, loro non ci caga proprio e dice andiamo C'è questa qua Non abbiamo un nome per il team ragazzi, dobbiamo trovarlo adesso Quelli se la ridono Rudus del fin Oh Inframundo Ok abbiamo iniziato un nome proprio eccellente Ok ragazzi, dobbiamo muoverci per andare al nostro lotto Vedete la giù c'è Olivia, c'è anche Axel che ci stanno facendo i big saluti Lì ci sono i lotti degli altri Io intanto inizio a guardarmi un po' in giro nelle ceste per cercare qualcosa Chi lo sa magari troviamo oggetti nuovi Allora vediamo Andiamo da questa Ok Chi sono qui? Ah tutto proprio E il pueblo sarebbe tipo il villaggio Quanto pare si va a villaggi su questo mondo Ai 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 Qui ci sono i nostri due rivali Allora proviamo a correre Ah è vero c'è il tasto corso adesso Me ne sono accorto Guardate corre un pochino più veloce E' carino è come gioco Non ho visto neanche tanti bug Quindi GG Vediamo qui Letrerro Che sarebbe Cartello Niente di che Lì è pieno E lì c'è il nostro Ok Dai però Stupido Coso Levette No Hanno un Hanno un beacon Non ci posso credere No Andranno a costruire un faro E' vero Noi Noi Potremmo anche non vincere Ma abbiamo una mascotte Eccolo Ancora Che persona cattiva Ebbene Oh Rissa Ai 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 Bravo Luke Stia lì lontano Uh Petra Una nuova Bastarda Che persona opportunista Oh mio Diggio Oh mio Diggio Ah ok Adesso Diciamo ai suoi amici Di avere Un po' di educazione Che persone cattive Che persone cattive Yeah Intanto c'è Harry Potter Femina che sta Parlando Ma dettagli Ma vabbè Se vinceremo Incontreremo Gabriel il guerriero Oh mio Dio Hanno un saluto Noi non abbiamo un saluto Ragazzi Dobbiamo inventarlo Lo inventeremo adesso Eh Il latigo del guerriero Sì Sì Lolo Gli saluto Il migliore della storia Lassa un pugno così Vai Tim C'è anche il maiale Con noi E È incominciato Ok Dobbiamo iniziare a costruire Quindi dobbiamo solo cliccare Pulsanti Non ci tocca fare altro In realtà Ma dettagli Ok Clicca 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 Ancora Questo può rompere Ecco Infatti Rosica Allora Noi stiamo costruendo Il nostro dispensatore Di fuochi d'artificio Che sarebbe Una cosa fighissima Dovrebbe Sparare fuochi d'artificio Ma sul davanti Costruiremo Uno zombie Guarda che carino Sto zombie Più o meno Tanto le altre costruzioni Fanno un po' pena Sinceramente Che cos'è quella roba In lava Ok Ok L'unica cosa carina È quella degli ocelot Che Ho un po' paura Vai Attiva la leva Attiva la leva Attiva la Infatti Tutti vengono a vedere A quanto pare Piace il nostro zombie Infatti Rosica Oddio Corri No No Maiale Ruben Oddio Che persona cattiva Cosa dobbiamo fare Salvare Ruben O salvare La competizione Io devo salvare Ruben Ragazzi Ormai è il mio miglior amico Ok Siamo corsi A salvare Ruben Speriamo vada bene Intanto qua si ammazzano Ma dettagli Che male Axel Dai Axel Sei praticamente un golem Datti da fare Dobbiamo trovarlo Ragazzi Ok ragazzi Siamo alla ricerca di Ruben Ci siamo divisi dagli altri Per cercarlo Prima E raggiungerlo Questo Maledetto maiale E ora Mi tocca cercarlo Allora Vediamo lì Magari è dietro l'albero No Non ci sei? Dove sei Ruben Maledetto Dai Ruben Oh una carota Laggiù Maledizione Quanto guardiamo Altre orme Di maialino Andiamo a prendere la carota Magari ci potrebbe Servire Tengo una sanahoria Parati Ok Abbiamo Anche Una Zanahoria Di là non c'è nulla Andiamo giù di qua Dai Stiamo adentrando nella foresta Non lo troveremo No No Non si può In mezzo a 4 miliardi Trovarlo Ok Andiamolo a cercare di qua E si va ancora più Indentro la foresta E non lo troveremo Mai Oddio Lì c'è qualcosa che fuma Oddio Il costume Il costume No dimmi che non è morto Non diventare un prosciutto cotto Oh mio dio Allora intanto spegniamo Il fuoco Se no Attiriamo l'attenzione E soprattutto non bruciamo il costume Che ha fatto Axel No Nella grotta no Per favore Oddio 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 Ragno schifoso Fuggi Jesse Non è un bel posto Ok L'avete sentito L'abbiamo chiamato E Ruben è lì Deve essere qui Per forza Cioè Io l'ho chiamato E attenzione signori L'abbiamo trovato Mi sa Sì Ruben Guardalo Eccolo lì Piccolo Maia Che cucciolino Ok Una carota Ce la mangia ben volentieri Bene Allora Ora diciamo che dobbiamo andarcene E dobbiamo tornare Di nuovo Al villaggio No No Gli zombie no No Gli zombie no No Gli zombie no Ragazzi Fuggi 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 Oddio un creeper Porca miseria Guardate che scivolate Oddio una freccia Che cazzo Via 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 Fuggi 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 Oh no 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 Siamo in trappola ragazzi Dovremmo combatterli Mi sa E infatti Vai con la spada Allora Pari muoverti Così E Aia Ok Abbiamo perso Un po' di cuori Intanto Lì diciamo Di star dietro Vai Mamma mia Queste azioni Però ne stanno arrivando Troppi E dai Puttanci Come l'ho eliminato Male E anche questo È morto Però Ci si è rotta La spada Porca Miseria Siamo mortissimi Rega Siamo mortissimi Dobbiamo fare Qualcosa Intanto Il maiale Fa Come deve essere Giusto Oddio no I ragni No Oddio Dobbiamo proteggerlo Vai Lo proteggeremo No Aia Oddio un ragno Oddio un ragno Oddio Oddio no 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 Dobbiamo fare Che dobbiamo fare Che dobbiamo fare Che dobbiamo fare Clicca 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 Oddio Ok Però non è morto Mannaggia lui Mannaggia lui Petra Grandissimi Oh mio dio Che cattiveria Col piccone Ruben corri Oh abbiamo preso Del filo GG Ok Perfetto Stiamo fuggendo Intanto anche Ruben è con noi Grazie a dio Oh mi fa vedere qualcosa Oh mia dio Oh mio dio Allora, in poche parole Lei è appena tornato dall'altro mondo Che sarebbe il nether, l'inframundo E sta E E' riuscita a prendere questa Testa Del wither, degli scheletri neri Diciamo, che troviamo nel nether Per dopo scambiarla con un tipo Nel villaggio con dei diamanti, da quanto ho capito E intanto Jesse è un po' Diciamo, wow, what the fuck Sei stata Nel nether, hai sconfitto Dei mob, tipo GG E Jesse è un pivello, proprio non sa far nulla Nel nether, ho sicuramente capito Ma non mi piace un piccolo backup Cosa c'è per me? Respetta Admirazione Non si può essere Pugno in faccia Per dire questo Just now LOL Ci do un pugno in faccia LOL LOL Proprio Jesse non sa nulla Cioè, neanche sa che le warbands Possono essere utili in caverna Adesso, poiché ci si è rotta la spada Potremmo farne una E vai Ok, ci faremo una spada in cobblestone Da quanto ho capito Ovviamente, noi sappiamo il crafting Perché Siamo troppo pro Ok E un bastoncino Che mettiamo Alla base La costruzione di questa spada Fantastica Sì, abbiamo fatto una spada Sì È molto più bello Quando si fa una spada O comunque un oggetto Con le proprie mani Anche nella realtà Quando vi costruirete una scrivania È tutto più figo Quanto pare L'endercon è il villaggio Oltre che la competizione Petra malvagia Intanto Jesse e Petra parlano Della competizione Sperà di vincere Però Lucas e gli Ocelot Hanno fatto il loro faro Che è molto meglio Pazienza Pazienza Intanto C'è chiesto Ehi Lucas è simpatico Infatti amici di te Ho detto impossibile Perché probabilmente Anche gli altri due La pensano come me Big flame Ma Yala ha notato qualcosa Oh mio Dio Creeper Zombie Che dobbiamo fare ragazzi Sono troppi Troppissimi Troppissimi Anche per me Non ce la farei Troppo da gestire due Dobbiamo scegliere Battaglia O saltare Saltare ragazzi E' tutto più figo E c'è anche la canzone Di fine episodio Grazie mille per aver visto Questa prima parte Anzi questa seconda parte Del primo episodio Di Minecraft Story Mod Nulla Vi ringrazio per il like Il commento sotto E ci vediamo domani Con un altro video Intanto Godetevi Quel creeper Che sta per esplodere Dietro Jesse Grazie mille